Buongiorno a tutti, io volevo unire gli ringraziamenti a tutti gli amministratori che sono qui per parlare di questo tema. E un ringraziamento particolare va ovviamente anche ai tanti cittadini presenti qui stamattina. Ovviamente il sindaco ha già illustrato la situazione che appena siamo insediati era presente la nostra istatua, circa 600 tonnellate di rifiuti per la testa dedicatoria, che ovviamente ci mettevano in una condizione in seria e in difficoltà. Ovviamente c'è stato un progetto subito e immediato, ci siamo attivati per allargare e per estendere le zone di porta a porta in zone importanti della città, avendo già dei risultati importanti in quelle zone e ci auguriamo che con estensione di altre sensibili importanti che ho stato di quella di a fino a settembre raggiungeremo comunque delle percentuali di risposta differenzialmente importanti. Io ovviamente il servizio non è un servizio di carattere tecnico, non ne ho le conoscenze e le competenze, ma vorrei catturare la vostra attenzione di due temi importanti che tra l'altro sono stati anche già affrontati nella interessantissima relazione della dottoressa Poni. Il primo che riguarda la sensibilità e la sensibilizzazione del territorio. Noi da quando ci siamo interiati abbiamo fatto assieme a Sfidro, alla comunitazione e a diversi consiglieri comunali tanti incontri. Abbiamo incontrato tre comitanti di quartiere, abbiamo incontrato le associazioni degli amministratori di condominio, sono in previsione del settembre degli incontri con le associazioni di categoria, con le patrocchie, con le scuole. Non a caso di ieri proprio personalmente mi sono legato all'azienda R-Plus dove noi portiamo la classica. Abbiamo già accortato che ad ottobre porteremo in scuole, nel nostro territorio, la visita per quello Stafinio per creare quella sensibilità, quella sensibilizzazione che è già presente in città. Io, per voler raccontare un episodio simpatico che mi ha accortato stamattina prima di venire qui a questo convegno, ho incontrato un cittadino il quale mi ha regalato questo emontro. Questo emontro in pratica è un contenitore per gestare i consigli di diversa. Mi è stato dato da un tappacario di Serrunga e ha detto perché anche al cattorio non fate una cosa del genere. Questo mi ha colpito, tra piacere, perché notiamo che c'è un'attenzione in città e soprattutto una voglia da parte delle persone che vorreste occupare di questo tema. Il secondo tema, che è stato bene già risposto allo strumento a voi, è quello di trasformare quello che è un problema in una opportunità e una risorsa per il territorio. Vedete, negli anni precedenti, in questi 15 anni, quando si è parlato di rifiuti, si è parlato sempre di emergenza di rifiuti, si è parlato di un problema. E la politica in generale si è sempre concentrata su quello che era il problema. Oggi, da qualche mese, ci stiamo iniziando a concentrare su quale potrebbe essere la soluzione al problema. E questa mattina, l'incontro qui con la sottoperta Poli, va proprio in questa decisione. Una tinergia con gli amministratori, con gli cittadini, per capire come riuscire definitivamente, in maniera seria, in maniera convinta, da questo amico, un problema che riguarda non la politica, ma riguarda i cittadini in generale, perché il cittadino che esce per strada, il cittadino che trova il stacchetto fuori casa, il cittadino che ha un problema che ha anche un problema di lavoro. Io, ovviamente, sono stato perismo, cioè perismo, per dare spazio anche agli altri amministratori, e voglio concludere questo mio breve intervento, prendendo scuso dal titolo di questo convegno, una soluzione per il nostro futuro. Il futuro non può non partare per un presente fatto di impegno, di serietà, e soprattutto non si può costruire il futuro senza immaginarlo. Oggi, stamattina, con i vostri stavoli, con gli amministratori, iniziamo a tracciare dei parti per un futuro diverso, nel senso del rispetto dell'ambiente e della lucella di tutti noi. Grazie. Grazie, signor. che si è concentrato, per il suo atteggiamento propositivo di queste settimane, verso quella che è la soluzione alla velocità di tutti. E io, ottimo, noi ci stiamo avviando verso quella che è la seconda parte di questo nostro convegno, cioè l'esperienza delle altre amministrazioni che propendono verso questo stesso scopo. Tra queste c'è l'amministrazione provinciale di Berendito, che ha condiviso, ha sposato il progetto Vedelago prima dell'amministrazione comunale di Casoria, quindi è probabilmente più avanti, ma meglio ce ne parlerà il suo attestore, che ci ha avvolto questa mattina della sua presenza, l'attestore Gianluca Caceico.